Il nostro universo è un oggetto a quattro dimensioni, una temporale e tre spaziali. Ora, non mi aspetto che siate capaci di immaginare un oggetto a quattro dimensioni, non lo sa fare nessuno, e la ragione è davvero molto semplice. Noi possiamo immaginare, simulare in maniera visiva nella nostra testa, solo cose che abbiamo già visto, o variazioni sul tema di cose che abbiamo già visto, o complessissime combinazioni di cose che abbiamo già visto. Immaginare un oggetto in quattro dimensioni, quando di un oggetto a quattro dimensioni, un oggetto fisico, io non ho mai fatto esperienza diretta da osservatore esterno, sarebbe come immaginare un nuovo colore, sarebbe come chiedere a qualcuno che non ha mai fatto esperienza diretta del rosso, di ricostruire e simulare appunto nella sua testa l'esperienza visiva diretta del colore rosso. Questo è semplicemente impossibile, e questi sono niente più che i limiti che l'evoluzione biologica ha imposto ai nostri cervelli. Noi siamo cresciuti in savane, dove gli oggetti pericolosi erano tridimensionali nello spazio. La nostra impressione diretta del mondo, al di là di quello che poi la fisica ci ha insegnato nel tempo, è quella di oggetti tridimensionali che si muovono e si evolvono nel tempo. E quindi noi abbiamo visto tante cose in una dimensione, due dimensioni, tre dimensioni, e quelle sappiamo immaginarci. Tuttavia ci sono degli altri modi per arrivare a capire cosa significhi avere più di tre dimensioni. Il più naturale è la matematica, perché lì dove il nostro intuito ci abbandona, lì dove non possiamo più tenerci aggrappati alla scaletta a bordo piscina, e siamo costretti a nuotare, allora la matematica, che è una raffinata estensione delle nostre capacità deduttive e logiche, ci permette di ottenere degli ottimi risultati. Ma ci arriviamo piano, partiamo da un oggetto molto semplice, l'oggetto in zero dimensioni, il punto. Io qui mi sono preparato un'analogia gastronomica. Un chicco di riso. Un chicco di riso è incredibilmente più grande, anzi, infinitamente più grande del punto di cui vi sto parlando. Il punto è niente più che un punto. Mentre un riso è comunque un chicco di riso, è comunque un oggetto con un volume. Quindi un punto va pensato proprio come un punto. Su un punto non si può fare molto, non possiamo mettere delle coordinate su un punto, quindi se vogliamo è un oggetto banalissimo. Ma se noi prendiamo tanti punti, infiniti punti, infinitamente vicini tra loro, e li mettiamo in fila, e li mettiamo in fila, ciò che otteniamo è una linea. Immaginate di prendere tanti piccoli chicchi di riso, metterli uno di fianco all'altro, super vicini e ottenere uno spaghetto. Uno spaghetto, se iper sottile, infinitamente sottile, ma godiamoci questa approssimazione, fosse infinitamente sottile non lo vedreste, quindi accettiamo quel che abbiamo. Uno spaghetto è un esempio di oggetto a una dimensione. Cosa significa? Qual è la differenza? Che lo spaghetto è composto da tanti, 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 infiniti, come dicevo, punti. Ma che per identificare uno qualunque di questi punti in maniera sicura, certa, non ambigua, senza confondersi, basta uno ed un unico numero. Basta un numero. Ad esempio, chiamiamo questo punto zero, questo punto uno, il punto a metà un mezzo, il punto a metà del primo segmento un quarto, il punto a metà del secondo segmento tre quarti, e così via. E pian pianino associamo un numero ad ogni puntino dello spaghetto. E così ci basta un numero per identificare un punto dello spaghetto. E' chiaro, non tutti gli oggetti unodimensionali sono così. Possono essere anche curvi, come uno spaghetto cotto, aperti, come in questo caso, o chiusi, no? Abbiamo varie opzioni per realizzare oggetti in una dimensione, ma la cosa che ci interessa qui è che prendendo infiniti oggetti a zero dimensioni e appiccicandoli gli uni agli altri abbiamo costruito un oggetto in una dimensione. E come avrete già intuito, si può fare la stessa cosa per andare in due dimensioni. Se noi prendiamo tanti, tanti, tanti spaghetti e li mettiamo uno di fianco all'altro, infinitamente sottili, infinitamente vicini, costruiamo un foglio. In particolare, un foglio di spaghetti. I fogli di spaghetti sono la più antica forma di carta dei popoli italiani, l'analogo del papiro per gli egizi. Ma diciamo che un foglio di spaghetti, o meglio, una lavagna, se vogliamo lavorare in modo un po' più semplice, è difficile scrivere sugli spaghetti. E la ragione per cui in Italia la scrittura è arrivata tardi, dicevo, un oggetto a due dimensioni ottenuto con infinite, se vogliamo, sezioni, infiniti oggetti a una dimensione appiccicato gli uni agli altri è caratterizzato dalla necessità di specificare due numeri per identificare univocamente un punto. Ancora una volta, zero dimensioni, non servono numeri, il punto quello è e basta. Una dimensione ci serve un numero, come sul reghello. Due dimensioni ci servono due numeri. Un esempio canonico di oggetto in due dimensioni è la superficie della Terra. Attenzione, non la Terra in quanto tale, la Terra in quanto tale se puoi anche andare a fondo a tre dimensioni. La sua superficie. Se noi vogliamo specificare la posizione di un punto sulla superficie della Terra, abbiamo bisogno di due numeri. La longitudine e la latitudine. Se io vi do solo la longitudine, non vi sto specificando un punto, ma tutto un insieme di punti con diverse latitudini. Per identificare in modo non ambiguo, in modo univoco, diremmo noi un punto, di numeri ce ne servono due. Ed è questo che significa essere un oggetto a due dimensioni. Lo si può vedere qui, no? Su questa lavagna. Qui ho disegnato un piccolo schemino di un oggetto a due dimensioni. C'è un asse, la prima dimensione, un altro asse, la seconda dimensione, e due punti, che chiamiamo A e B. A e B sono identificati da delle coordinate. Una coordinata Y e una coordinata X. In particolare, la coordinata X di A e B è identica. Questo significa che se io vi dessi solo la coordinata X, se vi dessi un numerino, non vi starei dando un punto, ma la mia informazione sarebbe ancora ambigua. Dovrei darvi anche la coordinata Y per distinguere tra A e B. Due numeri per un punto. E così si prosegue. Prendendo tanti fogli e mettendoli uno sopra l'altro, infinitamente sottili, infinitamente vicini, si costruisce un volume in tre dimensioni. No? Un volume, qui stiamo astraendo, fatto da infiniti fogli in due dimensioni, è un oggetto in tre dimensioni. Per specificare un punto interno a un libro, noi abbiamo bisogno di tre numeri. una coordinata lunghezza della pagina, una coordinata altezza della pagina, per specificare il punto sulla pagina, e una coordinata profondità. Ad esempio, specificare la pagina su cui siamo. Quindi, se io vi voglio indicare questa equazione nello specifico, io vi devo dare la pagina, che è il primo numero, la posizione lungo l'altezza e quella lungo la larghezza del libro. Tre numeri per specificare un oggetto in modo non ambigua. E qui, ad esempio, un altro esempio canonico è la posizione di un pesce nell'oceano. La posizione di un pesce nell'oceano va specificata con tre numeri. Non ci bastano la latitudine e la longitudine, ma dobbiamo dire anche a che profondità si sta muovendo il pesce, perché l'oceano è un oggetto tridimensionale. Questo è il significato della parolina dimensioni. E quindi il gioco prosegue in questo modo, anche se le nostre analogie mentali non ci possono più aiutare, anche se la nostra immaginazione non ci può più aiutare, ma questo non è un limite della nozione di dimensione, è un limite della nostra immaginazione. Siamo come quei tizi che non hanno mai avuto esperienza del rosso, non abbiamo mai avuto esperienza delle quattro dimensioni, ma abbiamo una procedura per costruire oggetti a dimensioni più alte, mettendo insieme tanti, tanti, tanti oggetti di una dimensione in meno, infiniti, lungo un'extra dimensione che aggiungiamo, che costruiamo, ad esempio, la profondità del libro, ad esempio, la lunghezza dello spaghetto, ad esempio, la larghezza del foglio costruita, costruito con gli spaghetti. Il nostro spazio-tempo è un oggetto a quattro dimensioni per questa ragione qui, perché per specificare in modo univoco un punto dello spazio-tempo, abbiamo bisogno di tre, quattro numerini, tre numerini spaziali e un numerino temporale. Dobbiamo dare una posizione e un momento per specificare un punto dello spazio-tempo. Ad esempio, i fisici per questa ragione chiamano i punti dello spazio-tempo eventi. Ad esempio, la morte di Napoleone, 5 maggio 1821, isola di Sant'Elena. Se io vi dessi solo tre numeretti, ad esempio, la posizione dell'isola di Sant'Elena nel sistema di riferimento del sole, voi non sapreste quando andare lì per trovare precisamente in modo non ambigo la morte di Napoleone. Avete bisogno di quattro numeri, anche della data. anche del 5 maggio 1821. E questa, Crononauti, è la nozione di dimensione. Questo significa essere un oggetto in quattro dimensioni. A questo punto, Crononauti, non mi resta che suggerirvi di iscrivervi al canale, al gruppo Telegram di Spazi Attorcigliati e ricordarvi che la cosa importante quando vi gettate in un buco nero è portare la testa a presto e non perdetevi nella quarta dimensione.